Sì, sono appena rientrati, già devi andare in banno, puoi aspettare almeno la fine dell'appello? Grazie Scusi maestro, posso andare in banno, non ce la faccio più Ragazzi, ma che vi è preso stamattina? Andiamo Carlo, certo che puoi andare in banno Ragazzi, che nessuno si alzi dal proprio posto Noto con disappunto che sono le ore del mattino e ne sono già successe di tutti i colori Ragazzi, in questi mesi abbiamo discusso a lungo su quanto il nostro atteggiamento possa fare veramente la differenza E su quanto sia fondamentale compiere azioni che portino al bene E non il bene soltanto per se stessi, ma un bene per tutti Un bene collettivo Tutti vogliamo essere liberi Ma per essere liberi, prima di tutto bisogna essere onesti gli uni con gli altri E leali Dobbiamo compiere il nostro dovere Qualunque esso sia, compierlo fino in fondo Ecco, il vostro dovere di oggi era farmi un tema Adesso facciamo l'appello E poi verifichiamo chi di voi ha fatto il proprio dovere Vito Schifano Presente Rocco Di Cillo Presente Antonio Muntinaro Presente Agostino Catalano Presente Emanuele Aloi Presente Vincenzo Di Murio Presente Walter Eddy Covina Claudio Traina Presente Francesca Mordino Presente Paolo Borsellini Presente Giovanni Falcone Presente Medit Vincenzo Di Wu Grazie a tutti.